Alan 48 BSX ha la fama per essere un apparato non del tutto di qualità ovvero sia a livello di trasmissione quindi di modulazione a una modulazione Cuba qui lo stai vedendo trasformato quindi è diventato un apparato d'eccellenza ad alte prestazioni vediamolo e ascoltiamolo nuovamente attenzioni canalista 24 per un controlino cambio cambio bip di fine trasmissione e coccolte effetto elicottero regolabile da un minimo a un massimo in senso anti-orario ascoltiamolo al massimo attenzioni canalista 24 cambio mettiamolo alla posizione corretta qui ore 14 adizioni se mi vai ascoltando tu che stai guardando questo video per un controlino con questo Alan 48 BSX trasformato la trasformazione è stata per l'appunto la modifica dell'eco call effetto elicottero roger bip di fine trasmissione parlo ascolto e questo che tu stai ascoltando e che ti permette di avere sempre sotto controllo la tua modulazione e il tuo eco ovviamente è stata portata anche la modifica alla potenza in modo tale che spinga sui 20 va effettivi in antenna le modifiche sono controllabili come abbiamo già detto da questo potenzialometro che ti dà la possibilità di azzerarlo quindi avere la modulazione normale o regolare l'eco a tuo piacimento è stato messo come hai sentito anche il roger bip di fine trasmissione e sono state apportate anche le modifiche nella parte estetica quindi la mascherina era già illuminata ma di verde è stata fatta l'illuminazione blu le manopoline trasparenti retroilluminate e la cover adesiva cromata by track quindi se anche tu hai un Alan 48 BSX e ti piacerebbe trasformarlo sia in termini di modulazione, potenza e anche la parte estetica beh, mi puoi contattare i numeri qui in sovrimpressione allo 0 375 98 340 o sul numero di cellulare che è anche il numero di whatsapp il 335 446 5900 sarà un piacere darti ulteriori informazioni e scambiare due chiacchiere per trovare la miglior soluzione per trasformare il tuo BSX da Umberto CV by TrackPoint che si trova in provincia di Cremona ci vediamo al prossimo video ti ricordo inoltre che il TrackPoint ritira il tuo CV gratuitamente in tutta Italia